un problema che affligge molti uomini e in particolar modo molti ragazzi inesperti è la gestione delle emozioni quando interagiscono con una donna ad esempio durante un primo appuntamento queste emozioni sembrano troppo forti impossibili da controllare sudi ti agiti i balbetti hai lo sguardo ebete stai facendo una figuraccia chi di voi non ha mai avuto dubbi in queste situazioni lei è vicino a te ti guarda magari c'è un contatto fisico e tu non capisci più niente ti sembra di non essere più neanche te stesso e questo ti fa paura beh certe emozioni si può in parte imparare a controllarle ad esempio con la respirazione lenta e profonda con la meditazione immaginandoti di essere in quella situazione e di essere totalmente calmo in controllo di te stesso ripetendo un mantra prima di incontrarla tipo io sono calmo e tutto sotto controllo io sono calmo e tutto sotto controllo altra cosa che aiuta come sempre è l'esperienza ma lo sai qual è la cosa che è veramente fondamentale da capire che queste sensazioni che provi sono del tutto naturali e tu non hai niente che non va quindi va bene sapersi controllare sapere gestire la situazione ma non pensare minimamente di risolvere tutto diventando più freddo e insensibile condannando e reprimendo le cose che provi o peggio ancora negandole anche a te stesso le uniche cose che dovrai eliminare con l'esperienza sono solo le tue paure immotivate e la prima di queste è proprio la vergogna per quello che provi e per il fatto che si veda vedi io avrò probabilmente il doppio dei tuoi anni e ho avuto tanti primi appuntamenti e interagito con tante donne ebbene ancora oggi ti assicuro che mi emoziono tantissimo in certe situazioni ad esempio pochi giorni fa ero in fila alla cassa e c'era una ragazza con la mascherina e due occhi stupendi semplicemente mi ha guardato e io mi sono sentito ribollire dentro del tipo oh mio dio della serie vuoi una bustina e io no grazie ho lo zaino beh questo non mi ha per niente messo a disagio men che mai impedito di pagare la spesa ho messo in una situazione di particolare imbarazzo anzi ero felice per il fatto che avevo provato una bella emozione quindi segui pure i consigli degli esperti su come tenere a bada le proprie emozioni ma questo solo per saperle gestire in un modo socialmente accettabile non per reprimerle o condannarle o negarle quando sei con lei non concentrarti su te stesso concentrati su di lei su quello che ti sta dicendo e sulle cose che state facendo insieme in quel momento semplice e banale lascia fluire le tue sensazioni in modo che si alleggeriscano e diventino di contorno esempio dovete attraversare la strada ed entrare in un bar dove prenderete una tazza di cioccolata calda bene pensa ad attraversare la strada ad entrare nel bar e a prendere due tazze di cioccolata ce la puoi fare anche se la strada ondeggia senti gli angioletti che cantano e anziché le persone vedi gli elefanti che volano tu lasciali volare quando siete seduti al tavolino lei ti chiede quale serie tv ti piace di più bene tu rispondile in modo molto semplice la vedi come una madonna vestita da vampiro e quando parli ti senti girare lo stomaco beh questo non ti impedisce di dire il nome di quella serie perché ti piace lo potresti fare anche a testa in giù e camminando su una corda quindi qual è il problema e se lei stessa chiedertelo a un certo punto ti guarda e ti fa ma va tutto bene ti vedo strano a questo punto diglielo no è che mi sento emozionato perché sono con te comunque tranquille tutto sotto controllo come pensi che reagisca perché dovrebbe reagire male anzi secondo me queste possono essere addirittura due frasi killer se dette nel modo nel contesto giusto pensa lei appena detto che lei ti emoziona e che hai tutto sotto controllo e anche se vedi che lei è visibilmente a disagio per questo potresti aggiungere sorridendo non volevo metterti in imbarazzo mi succede sempre così sono cose istintive passeggere perché non ce ne andiamo in piazza così guardiamo le vetrine e ci si distrae un po insomma tranquillo e non vergognarti di te stesso e di quello che provi impara a controllarlo e a gestirlo un uomo questo lo sa fare e può essere molto affascinante ciao a tutti e al prossimo video iscriviti al canale